Salve a tutti amici, buongiorno a questo video, io sono Salopimpos E oggi siamo su Corri Salsiccia Corri 2 L'altra volta abbiamo fatto il primo episodio, il primo capitolo Quindi se vi siete persi il video andatelo a guardare Questo è il 2 però di sviluppatori diversi Quindi vediamo un po' che cosa hanno mantenuto il primo Allora, questi sono i livelli Il primo livello è il livello hot dog Buono È level select Ah, qual è il mondo allora? Il mondo 1 è l'hot dog Perfetto È livello 1 Andiamo, andiamo Che facciamo? Get ready Ok Sono pronto tizio Ma è piccola però la salsiccia qui Sono pronto Che è piccola la salsiccia Chi è? Perché è failed? Che ho fatto? Non ho fatto niente ancora Che devo fare qua? Ah, cioè aspetta Devo saltare sto coso Ma non manco l'ho visto Che dove? Ah, che così salto Ok, evitiamo le uova Evitiamo tutto E vado vi Che faccio? Completed Fatto Get ready per il livello 2 Ottimo Ok, effettivamente il primo mi piaceva di più graficamente però Questo è un po' Un po' girano gli occhi Perché un po' girano gli occhi Perché lo sfondo è fisso E cammina solo lo scenario Il che ti fa confondere leggermente Ma l'importante è terminare i livelli Sì perché è un po' strano effettivamente Ah, sto tornando indietro Ok, via saltia Perché sullo sfondo vedo pezzi di schermo? Non l'ho capito Comunque Fatto, fatto Fatto Andiamo Continuiamo Lo sfondo è sempre lo stesso Almeno per questo mondo Quindi non so se effettivamente Negli altri mondi cambia lo sfondo O abbiamo sempre questa cucina fissa Che non se ne vuole andare via Ok Albarello Finito Finito Livello 5 Andiamo al livello 5 Vediamo un po' Get ready Ok, saltiamo Saltiamo E vediamo le uova Strapazzate Prendiamo tutti i lingotti Con i lingotti che cosa si fa? Non so Forse si acquistano nuovi costumi Ok Ok Ce l'ho fatta Fatto Livello 6 Quanti livelli ci sono in un mondo? Chi lo sa? Saltiamo Ho perso il lingotto Che è più veloce Aspetta Perché qua siamo più veloci Perché saltiamo Via Lumaca Lumaca Fatto Completed Livello 7 Che è al contrario Stavolta Aspetta Che ci devo riprendere la mano Al contrario Saltiamo 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 Di qua Ok E come salto? Ah ok Così Andiamo di qua Andiamo di qua Perfetto Aspetta Che qua ci incactussiamo No Fatto Livello 7 è completato Andiamo al livello 8 Salto 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 Coniglio Coniglio è velocità Ah Aia Aia Coniglio è la velocità Allora Aspetta Che ci dobbiamo organizzare Qui Salto Ok Salto Salto Lumaca Alterniamo Conigli E lumache Fatto Completato Il livello 9 Anzi i livelli sono abbastanza corti Salto Ok E andiamo di salto Delle uova Salto Saltiamo Di qua Non dimentichiamoci Lingotti Perché Dobbiamo capire Come spenderli Fatto anche questo Il livello 10 Forse è l'ultimo Abbiamo 247 Lingotti Ne abbiamo perso uno Però Non so se li conteggia Per ogni livello Saltiamo di qua Ok Che è un trampolino Aspetta che ritorniamo indietro Trampolino di qua Saltiamo di qua Saltiamo le uova Saltiamo I cactus Fallito No Aspetta Aspetta Ce la dobbiamo fare Ce la dobbiamo fare Voglio capire il mondo 2 Che cosa sarà Saltiamo di qua Trampoline Saltiamo il triple uova Doppio cactus No Io non l'ho preso il cactus Però Cominciamo E uno E due Ecco Non lo prendo il cactus Quindi non rompete Oh Saltiamo di qua Saltiamo di qua Fatto Fatto Il livello 10 completato Il livello 11 Quanti livelli ci sono in un mondo Livello 11 Saltiamo di qua Le uova Triple uova Ok Saltiamo Saltiamo qui Saltiamo la cassa La cassa Le uova La bandiera Siamo arrivati No Questo ci fa No Siamo arrivati Perfetto Livello 12 completato No Livello 11 completato Animal 12 Saltiamo Saltiamo Come dei coniglietti Però effettivamente il primo mi entusiasmava di più Non era così Non era tipo a livelli Però non lo so Mi piaceva di più Livello 13 Vediamo un po' Vediamo un po' Se riusciamo a terminare il mondo 1 Così vediamo il mondo 2 Lì sotto c'erano altre cose Che faccio? Come ci torno indietro? Non è che devo riaffrontarmi? No, mi ho finito Mi ho finito? Sì A sinistra c'erano cose però Vabbè pazienza Livello 14 Saltiamo, saltiamo, saltiamo Saltiamo Che bello saltare Torniamo indietro da qui Evitiamo il cactus Saltiamo qui sopra Prendiamo tutti gli ingottini Saltiamo di qua Saltiamo di qua Attento pietra saltata Finito Livello 15 Ci siamo fatti 15 livelli In meno di 7 minuti Ho sparato così ma non lo so A quanto tempo stiamo di registrazione Andiamo indietro Trampolino di qua Perfetto Prendiamo questi Prendiamo questi Prendiamo questi Torniamo indietro E andiamoci dall'altro lato Perché c'erano cose Che abbiamo lasciato lì? Aspetta che io qua non voglio lasciare niente Andiamo di qua Ok avevamo lasciati questi Che faccia li lasciamo qui? Per ricordo del nostro passaggio Ovviamente no Andiamo di qua Andiamo di qua Trampolino adesso Ora sì Torniamo indietro Saltiamo qui la cassetta Saltiamo il cactus Saltiamo la pietra Saltiamo il cactus Saltiamo la cassa E via Finito Finito Livello 16 Forza 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 Oh dog mio Che qui dobbiamo arrivare al mondo 2 Per non prendere le uova però Capisco che avrai fame Arrivato a questo punto Dopo 16 Dopo 15 livelli Ma cerca di evitarle le uova Se no finisci dentro la pancia di qualcuno Saltiamo E saltiamo E saltiamo Però si mimetizzo un po' con lo sfondo Sto personaggio qui Non è proprio Non è propriamente visibilissimo Diciassettesimo livello E quanti livelli ci sono Coniglio 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 Ok Saltiamo di coniglio Saltiamo il cactus Lumaca Lumaca Torniamo indietro da qua Saltiamo di qua Saltiamo di qua Altro coniglio Via di coniglio Ho sbattuto la testa Perché non lo facevate più alto Questo coso però Coniglietto 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 Lumachina Lumachina Ripetiamo Di nuovo Quella situazione Però se mi mettete Il salto In lungo Qui Non me le fate sbattere La testa Just le cornette Salto un po' Alla cieca Ok Lumachina Saltiamo di qua Fatto 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 Livello 17 Completato Livello 18 Ce ne saranno 20 Saltiamo di qua Saltiamo le uova Adesso ci sono più uova Sono uova Non sembra nemmeno uova Saltiamo i cactus Saltiamo qui Saltiamo qui Per pochissimo Ce l'ho fatta Ma ce l'ho fatta Livello 19 Livello 19 Vediamo se riusciamo A finire il 20 E vediamo Se effettivamente Il 20 È L'ultimo Del primo mondo Spero di sì Perché non è che potete fare Tutti sti livelli In un mondo solo Giusto Finito Finito Livello 20 Andiamo al livello 20 Che al contrario Contrario Non mi piace Non mi ci trovo Al contrario Ok Saltiamo Saltiamo Visto che l'hanno fatto Più difficile Credo effettivamente Sia l'ultimo Via di salto Via di salto Via di salto Ok Qua ho sbagliato Qua ho sbagliato Concentriamoci Non ci facciamo fregare Alla fine Da quella Cassa Insieme al cactus Amici per la pelle O per il cactus Ok Finito Livello 20 finito Ora sì Perfetto War complete 3 stelle Ottimo Congratulation Il nuovo mondo È stato sbloccato Vediamo di che mondo Si tratta Ok Lo scenario Effettivamente cambia Ancora più confusionario Dell'altro Mitico Vabbè Adesso usciamo Usciamo per adesso E per oggi direi Che va bene così Quindi dal sotto Se vi è piaciuto Lasciate un bel like Vi ricordo che potete Seguirmi anche Se mi piace Facebook Twitter Se come tutti I miei soci Di cui trovate Il link In descrizione Iscrivetevi al canale E poi c'è tutto Al prossimo video Oggi siamo su Stickman Parkour È un gioco In cui appunto Controlliamo Stickman E lo pilotiamo Fra virgolette In una serie di livelli Molto fighi Devo dire Evitando anche Questa zona rossa Andiamo subito Grazie a tutti